39 nuovi casi in provincia secondo l'aggiornamento dell'ASP Nissena dell'8 agosto relativa alle 24 ore precedenti. I pazienti positivi al SARS-CoV-2 sarebbero tutti in isolamento domiciliare. 16 pazienti di Gela, 11 di Caltanissetta, 3 di Butera, 2 di Niscemi, 2 di Riesi, 2 di Sommatino, 1 di Campofranco, 1 di San Cataldo e 1 di Serra di Falco. 3 i ricoveri in degenza ordinaria, un paziente di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Marianopoli. Un paziente di Sutera invece è stato ricoverato presso l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, guariti dal Covid-19, 84 pazienti di San Cataldo, 47 di Gela, 32 di Caltanissetta, 30 di Serra di Falco, 20 di Butera, 12 di Vallelunga Pratameno, 9 di Campofranco, 7 di Sutera, 7 di Villalba, 4 di Mazzarino, 4 di Riesi, 4 di Mussomeli, 3 di Niscemi, 2 di Delia, 2 di Milena, 2 di Resuttano, 2 di Sommatino, 1 di Buonpensiere e 1 di Montedoro. L'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente, invece, secondo il bollettino quotidiano dei casi Covid-19, scaricabile dal sito tematico dedicato del Ministero della Salute, parla di 11.976 casi e di questi in Sicilia 710. Grazie a tutti!